Grazie, grazie, grazie mille, grazie, grazie. Cubi Banca sceglie l'Arezzo Calcio per essere appunto il main sponsor per la prossima stagione in Lega Pro. Devono essere altre province, però avete scelto proprio la nostra. Beh, ce l'ha chiesto prima di tutto la comunità retina. Ce lo chiedeva anche l'anno scorso, l'anno scorso abbiamo esordito con l'investimento nel settore giovanile. E fare banca per bene significa anche un po' questo, insomma, significa anche ascoltare le esigenze del territorio e non solo semplicemente fare attività di intermediazioni di denaro. E poi ce l'ha chiesto anche il Presidente che si è fatto portavoce degli affari della comunità retina e poi pensavamo insomma che il nostro marchio sulla maglietta Amaranto, oltre a Ben Splendere, potesse essere un po' di attrattiva anche per altri tipi di interessi affinché l'Arezzo potesse tornare nel categoria che merita. Allora, vogliamo vedere la maglia con il nome, scassellati in Amaranto, insomma, credere nell'Arezzo oggi per Ubi Banca che cosa significa? Ma significa essere molto attenti a questo territorio, a questa città, alle genti retine, perché proprio la vicinanza si sostanzia in questa sponsorizzazione, che di fatto è veramente distintiva. Ubi Banca è presente in più di 90 province, probabilmente in tutte le squadre, in tutte le città delle squadre della Lega Pro. Aver scelto Arezzo è un grandissimo segnale per questa società, ma anche per questo territorio. Oltre che un marchio importante, a noi è una cosa che ci fa molto comodo, anche come volano per altri sponsor che devono entrare. Infatti quanto è importante che tutta la città, no? Che questo è un bel segnale però. Penso di sì, perché Ubi Banca che mette il nome sulla maglia, penso che altri hanno interesse a metterlo vicino. Stanno sai che la Lega te ne può far mettere anche altri, fortunatamente, quindi speriamo che qualcuno li seguirà.